Si parlerà di banche nel corso del prossimo evento organizzato dall'Associazione Cultura Nazionale in una settimana calda per quanto riguarda la vicenda del crack della vecchia Banca Etruria. In città, venerdì 23 giugno, arriverà infatti il giornalista Gianluigi Paragone per presentare il suo libro Gang Bank. Un grande personaggio, un grande giornalista, viene a presentare Arezzo in maniera molto convinta, quando l'abbiamo invitato era felicissimo, non aspettava altro a presentare il suo libro Gang Bank. Purtroppo il nostro malgrado protagonista di questo libro è Banca Etruria a Montepaschi, quindi verrà a farci capire, a svelare tutti i segreti dell'intreccio tra affari, politica, banche e tutto quello che la brutta politica ha ridotto un fiore all'occhiello come era Banca Etruria. In questi giorni quindi c'è anche gli eventi giudiziari che si stanno sosseguendo e con noi saranno presenti anche il comitato degli alzerati di Banca Etruria. Quindi un grande evento, un grande personaggio, Gianluigi Paragone, venerdì 23 giugno alle ore 21 al giardino della locanda di San Pierpiccolo, un altro grande evento di cultura nazionale. Ovviamente si parlerà anche di vicende legate al nostro territorio, uno su tutto Banca Etruria. Sì, lui viene anche per questo, per farci capire che Banca Etruria non è fallita, se così si può dire, perché un bel giorno il mercato è deciso che Banca Etruria è fallita, perché ci sono stati comportamenti politici e amministrativi indubbiamente sbagliati e lui ci farà capire come la politica e come la cattiva amministrazione abbiano distrutto un fiore all'occhiello come era Banca Etruria.